Benvenuti al sito l'affare.net In questo video lo stesso affare.net vuole proporre un video Un video che insegna, che spiega, che dà la possibilità a chiunque Ad avere dei numeri per sfruttarli dove ognuno crede più opportuno Questa guida, questo video, spiega come vincere all'otto con la propria firma Un metodo nuovo, un metodo che da parte mia non ho mai visto in qualsiasi sito Anche fare delle ricerche su Youtube o su Google Non si trova una strategia così Non è la solita vendita di numeri a caso Vendita di numeri a casaccio dove propongono delle vincite alla prossima estrazione dell'otto Qui vengono estratti dei numeri grazie alla propria firma Ognuno ha la propria firma, diversa dall'altro Quindi da quella firma vengono estratti dei numeri Vengono catalogati, vengono rispediti poi Per giocarli anche al gioco della lottomatica Anche al gioco del lotto E' una strategia nuova Quindi quello che viene fatto in questo video E' proprio far capire che c'è anche questa nuova strategia Per fare un esempio pratico per come estraggo i numeri da una firma Facciamo ad esempio che la firma sia questa Dopo una serie a valutazione Spassi, curve, punti, trattini, corsivo, stampatello Angoli, linee, cerchi chiusi, aperti Lettere più o meno alte delle altre Ad esempio, vedi qua c'è una lettera che è molto più grande delle altre C'è uno spazio, ci sono delle curve fatte in una certa maniera Ci sono degli angoli C'è la scrittura in stampatello La scrittura in corsivo Ci sono varie E' stata fatta in vari modi Da questi modi vengono presi i punti Vengono prese varie strategie di questa firma Viene studiata e vengono estratti dei numeri Per fare un esempio, in questa firma Sono stati estratti il numero 55 Che viene consigliato di giocarlo su Milano Viene estratto un Ambo L'Ambo è il 27 e il 33 Che viene consigliato di giocarlo su Bari e su Milano Dopo se uno vuole le può giocare anche su tutte Viene estratto anche un Terno Che è il 27, il 5 e l'85 Viene consigliato su Firenze e su Milano Dopo se uno vuole le può giocare anche su tutte Viene estratto anche una Cinquina e una Quaterna Sono 5 numeri Il 27, il 55, il 73, il 19 e il 18 Che uno le può giocare Può fare delle Quaterne Può fare la Cinquina filata Dopo naturalmente se uno vuole Le possono suddividere E sempre giocare dove uno vuole Grazie Supponiamo che la data di nascita di questa persona sia il 26.09.1987 E che la firma mi è arrivata tramite email Alle ore 21 del venerdì Alle ore 21 di un venerdì Allora, dopo una ricerca su internet La data di nascita E i sei numeri per il superenalotto saranno Il 27, il 33, il 65, il 66, l'84 e l'86 Questi numeri sono del superenalotto Però se uno le vuole giocare Anche all'otto Questi numeri diversi da quelli di prima Le ruote saranno Bari, Milano e Firenze Quindi La data di nascita è questa Che mi verrà spedita sempre tramite email Con la propria firma Mi è arrivata alle 21 Alla sera Il venerdì E quindi i numeri per il superenalotto Sono questi qui Quindi In più In regalo Ci sarà anche il numero 27 Che io consiglio a questa persona Che è Di tenerselo stretto Questo 27 A questa persona Sarà il numero fortunato Tenerselo stretto sempre con sé Qualsiasi cosa questa persona vorrà fare Qualsiasi appuntamento Cerchi di prenderlo sempre il giorno 27 27 e di sfruttarlo sempre al massimo Perché sarà il suo numero fortunato Quindi questa è una procedura È la procedura che quando mi arriva una firma Io la valuto e io estraggo questi numeri Grazie a questa firma La procedura per avere questa tecnica è semplicissima Io vi consiglio di contattarmi tramite skype per qualsiasi domanda Per qualsiasi Per qualsiasi richiesta Per sapere come funziona Come non funziona Cosa bisogna fare Cosa non bisogna fare O se no Mandarmi anche un'email Con le vostre domande Io nel giro di una giornata o due Vi rispondo Però come prima cosa Per curiosità Basta andare all'affare.net www.laffare.net Andare su Corsi per guadagnare online Cliccare su corsi per guadagnare online E scaricarvi gratuitamente Il file Dove c'è scritto tutto quello che viene fatto per estrarre dei numeri Se uno vuole un numero E' probabile anche due Dipende dalla data di Nassit E dell'ora che mi arriva Gratuitamente Scrivere subito sotto Il nome e l'email E il messaggio Che sarà La vostra data di Nassita Con queste tre piccole Con queste tre piccole cose Messaggi, email e nome Vi verrà rispedito Tramite email Un numero O forse anche due Gratuitamente Ed è probabile che Grazie sempre alla vostra data di Nassita Ci sia anche la possibilità di avere L'estratto L'estrazione Dove giocarla Milano Torino Firenze Bari Bologna Quindi C'è anche questa piccola possibilità Gratuita Per avere Ulteriori due numeri Gratuiti Quindi Scaricare Questa guida Come guadagnare Sfruttando la propria firma Leggerla bene E poi Se uno vuole Può anche avere Questi due numeri Gratuiti Quindi Facendo un piccolo Riassunto Io ho già spiegato Come funziona Cosa faccio Per tirare fuori i numeri Non è Come ripeto Non voglio Parlare male Di niente Di nessuno Però Non è la solita Solito sito Solita trasmissione Dove Danno numeri Per giocare all'otto Così a caso Ogni persona Gli mettono due tre numeri Tanto per No Questa qui è una cosa diversa Una cosa purtroppo Insomma C'è da C'è da spedire Delle mail Non è Non è una cosa immediata Perché c'è un piccolo studio Una persona dovrà Scannarizzare La propria firma Spedirla tramite email Al mio Indirizzo email E quindi E quindi Insomma Ci vuole Ci vuole un po' di tempo C'è una procedura Un po' Un po' particolare C'è uno studio E quindi Ci vuole un po' di tempo Perché dopo vi arrivi a casa I numeri I numeri della vostra firma Personali della vostra firma Comunque Innanzitutto Scaricatevi Scaricatevi Questo Questa guida Scaricatela E Vedrete che Insomma È una cosa diversa È una cosa nuova È una cosa diversa Da parte mia È tutto Io vi consiglio Anche di Di iscrivervi Al mio canale Di youtube Almeno così Se dovesse venire fuori Altre strategie Per il gioco Dell'otto Altre novità Sarete i primi Ad avere l'esclusiva Ecco quindi Vi consiglio Vi consiglio vivamente Di Di iscrivervi Al mio Al mio canale Di youtube Grazie Dall'affare.net Che ha proposto Anche questo video Io vi saluto Vi do appuntamento Alla prossima Con altri video Importanti Interessanti Come questo E Spero di Di avere Tante email Per Per aiutare A estrarre i numeri Dalla propria firma Quindi vi saluto Dall'affare.net È tutto Alla prossima Dall'affare 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 Grazie a tutti.